Ciao Nutella! Buon compleanno dei buon 50 anni di voi! Ecco, io sono un po' giovane, vi conosco quasi da 26-27 anni. Lui è il nuovo arrivato dalla nostra famiglia, lui si chiama Gabriele, è il mio bambino, soprattutto di mio marito. Come voi vedete, un vasetto di un chilo, e già se ne vola in poche settimane, perché sia io che mio marito ogni mattina facciamo colazione solo con le fette biscottate, con i biscotti di pasta frolla, o con di tutto e di più, ma come posso dire, voglio augurarvi un buon compleanno, se fa tutto, scusate un po', voi grida, come possiamo dire, continuate così, siete mitici. Ciao!